Facciavogli vedere che comanda! Corazzato nemico danneggiato! Centrato! Torna indietro da lì! Torna indietro da lì! Torna indietro da lì! Torna indietro da lì! L'abbiamo preso! Corazzato nemico danneggiato! Li abbiamo danneggiati! Centrato! Corazato! 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 E abbiamo fatto il solletico! Razzato nemico danneggiato! Centrato! Centrato! Grazie a tutti. 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 Non abbiamo bucato. Centrato. Veicolo nemico distrutto. Grazie a tutti. È rimasso. È rimasso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un nemico distrutto. È rimasso. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.